Ciao a tutti da Alessia, la vostra mamma in blu, come potete vedere oggi sono fuori casa. L'obiettivo è quello di fare una semplice passeggiata e vedere quante mascherine o guanti troverò gettati a terra. Ovviamente sono attrezzata con guanti e busta, li raccoglierò e vedremo dopo un'ora o due di passeggiata che cose effettivamente avrò raccolto. La speranza è quella di trovarne il meno possibile. Sono all'incirca le 4 del pomeriggio e siamo all'inizio di luglio 2020. Questa non è una mascherina, è un calzino, ma lo leviamo lo stesso. Qui abbiamo fatto il bis, mascherina e guanto. Senza contare tutta la trasportezza che purtroppo c'è. Questa non è un calzino, ma lo leviamo lo stesso. Sono ad una mezz'ora di passeggiata e già ne ho trovate un bel po'. Speriamo di non trovarlo più bene. Speriamo di non trovarlo più bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.